Sì, io lavoro chiaramente in Sicilia, a Vulcano alle Isole Olie, però vivo qui a Pesaro da sei anni perché mia moglie è cattolichina, quindi abbiamo deciso di vivere qui. Quindi la famiglia, due figli sono qui, quindi mi trovo benissimo. Diciamo che l'inverno lo passo qui a Pesaro e poi l'estate la trascorro a Vulcano, alle Isole Olie, come dicevo prima. Chiaramente il Terasia Resort, che è il resort dove lavoro, ha varie tipologie di ristorante, abbiamo quattro ristoranti all'interno, il ristorante vegetariano, il ristorante Il Capro, nonché il ristorante stellato. Io gestisco un po' tutti i ristoranti. A 27 anni ho intrapreso questa esperienza in una struttura grande e impegnativa da Executive Chef. Adesso che ne faccio parte da sei anni sono estremamente orgoglioso. Io gestisco non solo i ristoranti, ma il ristorante gourmet, che è un po' la mia passione. Io credo che la cucina sia una forma di dialogo, un modo per trasmettere e far sentire i nostri clienti soddisfatti, perché oggigiorno non è solo cucinare, quindi il cuoco non solo ha la responsabilità di cercare la migliore materia prima, ma trasmettere qualcosa. In questo caso sostenibilità, ricerca, passione, un po' quello che dovrebbe fare il cuoco. Raccontaci anche un po' delle emozioni, l'aver ottenuto la stella, anche le tue prime sensazioni e poi i progetti per il futuro. Tu ci hai parlato che lavorerai lì in estate, mancano pochissimi mesi, settimane, possiamo dire. Speriamo di iniziare il prima possibile. Per un cuoco prendere la stella è il sogno di una vita. Io ho iniziato a fare questo lavoro a 14 anni, quindi ho fatto tantissime esperienze e vedevo i ristoranti stellati come l'Olimpo dell'alta ristorazione. Quindi far parte di quella fascia, di quella categoria, per me è una grande soddisfazione. Tra i tanti insegnanti che hai avuto c'è neanche uno d'eccezione, ovvero Canavacciolo e poi, curiosando un po' nel tuo profilo social, tantissimi VIP che hai incontrato da Chef, Will Smith, De Rossi e Zio Greggio. Esatto, sì, sì. Canavacciolo è stata un'esperienza fantastica, ho lavorato da lui un anno e poi grazie a lui ho fatto il sous-chef al Boscareto Resort. Lui è un grande, è un grande maestro e sono contento di portare sul mio bagaglio professionale la sua esperienza. Sì, cucinare per personaggi dello spettacolo è sempre emozionante. Will Smith, abbiamo detto, abbiamo avuto grandi, grandi artisti, non solo artisti ma anche attori ed è sempre bello cucinare per loro. Chiudiamo con un augurio per la stagione che verrà e per il futuro? Speriamo, speriamo bene. Io quest'anno diciamo che ho intrapreso proprio tutto il menù sotto forma di viaggio. Infatti il concetto di quest'anno sarà il viaggio emozionale. Tutto partirà, la degustazione da un aeroplanino che sarà appunto il viaggio, quello che non abbiamo mai potuto fare. Quindi il viaggio, l'esperienza è un po' quella mentale che è solo quella appalato. Quindi parte il menù degustazione con un aeroplanino, poi c'è il menù è suddiviso in esperienze che ho fatto, che vorrei fare. Quindi nei vari stati, Marocco, sono stato in Marocco, ho fatto a Finlandia, sono stato in Francia, Spagna. E quindi un po' tutte le mie esperienze riportate in un unico menù. E poi richiudiamo il menù degustazione con un aeroplanino di ritorno. Quindi facciamo vivere l'esperienza che non abbiamo potuto vivere al nostro cliente.